Isaia. Ludovica si voltò. Gli occhi e il volto le si illuminarono. Aveva sentito bene. A parlare era stato suo nonno, Isaia O'Clock. Isaia era magro e vecchissimo, il più anziano del palazzo. Aveva sempre una pipa in bocca e indossava una benda sull'occhio, come un pirata. In effetti, diceva di essere stato davvero un pirata e Ludo gli credeva. Un po' meno gli credevano i suoi genitori. Sua mamma aveva un intero campionario di descrizioni per il nonno. Si andava da vecchio bugiardo a spudorato mentitore, passando per fantasioso imbroglione e ballista spaziale. Ludo lo raggiunse. Ma gli elefanti non volano nonno, disse sedendosi vicino a Ciunga. Ciunga era il cane di Isaia, una palla di pelo verde con due occhioni neri e la lingua sempre penzoloni. Gli elefanti sono pesantissimi e poi non hanno le ali, terminò la bambina. Evidentemente l'elefante che ho visto io non sapeva di essere così pesante, rispose Isaia mentre si grattava il mento. Vedessi come svolazzava. Anche il calabrone, se guardiamo il corpo tozzo che si ritrova, non si direbbe che possa volare, sai. Eppure guardalo là, come se la ronza beato. Ludo strizzò gli occhi verso i gerani della signora alla lavanda. Fra i petali un gigantesco insetto svolazzava leggiadro, succhiando nettare avidamente. E già, come svolazzava quel simpatico pacchiderma di biscottino. Ludo si mise comoda. Conosceva bene suo nonno. Quando usava quel tono sognante, stava per raccontare una delle sue avventure.